Ho avviato la registrazione, è arrivata l'ora da aprire sti pacchi o no? I primi rewards della WL di FIFA 21 Vediamo subito come devine... Allora, guardate, mo' perite Wow, Division Rivals Ah, i Division Rivals me so superato stasettimana Livello 5 Un pacchetto oro maxi e un pacchetto oro premium Full Champions però Elite 2 100.000 credit in pacchè a Bear Classico Comunque posso dire una cosa Posso dire una cosa? Posso dire che è una stronzata che tra Elite 3 e Elite 2 C'è stanno soltanto 25.000 credit di De Mezzo Il nostro obiettivo della giornata per quanto riguarda i Rossi e per il Team of the Week È per forza Spitzingrillo Spitzingri! Se non esci da qua, sono rovinato Vi faccio vedere il Team of the Week prima, dai Vernet, Rashford, Depay, Florenzi, Ederson, Müller, Pareko, Delaney, Zlatan Ibrahimović, Osiman Questi secondo me i giocatori più POG da trovare Perché è Bamba questo? A Bamba A Bamba piotta A Bamba potrebbe essere un ottimo super sub in League Game Vai col primo pick Spitzingrillo! Spitzingrillo! E gli si manda subito la foto Secondo pick Vai! Ammazza che carta, Delaney Non lo userò mai probabilmente Forse Müller è meglio Per il rating, per Ide Damme in verner così! Questo qua lo usavo in carriera Vabbè ma sono soddisfatto Sono soddisfattissimo Sì, Florenzi e Müller sono super soddisfatto Manco walk out Come on Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che pacco brutto C'era pure Enzonzi Scarta tutto va Pacco da Drift Ti ascolto Oh Oh Not bad Il signor Manfish 120.000 Come super sub per Ide Ma sotto c'è Rush for this Vabbè ma è un paccone in realtà Oh Un 150.000 160.000 Crediti De pacco Te dirò Mi poteva andare peggio Allora Questo è un pro player emergente Che vi volevo presentare Che ha fatto Oro 1 Questa settimana E dato che lo sta streamando Ho detto Vabbè dai Apriamo i pacchettini Al pro player Marzio Io lo sto a dichiaro Secondo me Uno spitzingrillo Ci può uscire dai premi Vediamo un po' Se Oro 1 Yammo alla maestro Vabbè prendi Daniele e Olmo Dai Dai naso Mamma mia Dani Olmo E la rabbi Vai col primo 100k Mamma mia Dai sotto qualche 83 tipo vendibile Au Ah benissimo 7.000 crediti Mamma mia Adal Azzar del fratello stupido Mamma mia che sbocco Vai Ok If if Zlatan Guarda Zlatan che bello Un doppio walkoutino sotto Au Vabbè Au Sì Una 60.000 crediti Però Di Bale Zlatan Mazzò Buona serata col fazzoterro Ti ringrazio per i pacchettini Barbone Barbone in Barbone Au Ciao bellissimo Goloso uomo Quanto cazzo mancava la Au del Barbone Regà Com'è andata la WL? Sì Sì? Ma quanto hai fatto? Littuano Eh sì Le ho già prese Livello 1 Livello 1 hai fatto? Oh madonna Ma come hai fatto scusami? Ho fatto 5 seravas Venerdì Prima la WL E sono bastate per fare livello 1? 15.000 Cioè ho fatto 18.000 punti Quindi sì Ma cazzo Nice in realtà Allora pick Vabbè apriamo il primo Chi vuoi? Va bene Delane Va bene Vabbè il signor spizzingrillo In Vieni va Non è forte Spigne su qua la fascia Mi sta a piacere E l'ultimo L'86 1 Ecco Porco demonio Quello sbagliato ci ha dato Manco sapevo ci fosse lui Che cazzo Sta tra le riserve sta Vero? Te di Oh Lo troviamo nel 3F Rashford Allora apri sto mega subito Levamo se Aspetta ma li vuoi apri? Facchi o ti vuoi tenere? Si apri tanto Oggi ho troppo Oh madonna Mamma mia Oggi stiamo col turbante Petrolalla eh Vabbè Una bandiera c'è Una bandiera c'è Delete Quanto costa? Una ventina stava Quando l'avevo visto l'ultima volta Se si è abbassato eh Un 10k Dai Not bad Not bad Ok If Goloso Spizzi Aspi Eh Da che non te trovavo eh Spizzingrillo garantito Quanto costa Spizzingrillo? 15k Così poco Adesso ma è un trattore Vabbè oh Mi apri pure sotto Che quanti sono pure lui? Mamma mia Ma sono morti tutti Ma pure Pure Renan Lodi In realtà valeva Al tempo Fra te sono crollati Mamma mia Sto pacchetto era una bomba Prima Allora pacchettino ultimate Ok Workout base Ce sta Inghilterra Tt Ah quello che domani No l'operario Bardi È buono lui? Del valore C'ha del valore l'operario Va vedi? 60k Vabbè va bene Vabbè dai not bad Dai poteva andare peggio If Allora ho visto pacchi top 100 Non essere walkout Eh? Quindi dici Uno su due walkout E abbiamo svortato Sì Oh Hai visto? Inghilterra così Peride Ancora Ma che palle 86 bonus Sotto un altro spizzo in grillo No no pure Rashford no? No pure Rashford volendo De Pai Più o meno Vabbè questo in realtà Secondo me te converrebbe Pure a tenetelo Secondo vai Eri perotti E questo chiamavi? Chi è? Ah è Mahele Mahele Vabbè sei ritornato alla grande Siamo ritornati alla grandissima Ho già tanti Ho trovato tre Tre walkoutini Barbo Che stai Buttai stai Barbo Io ti ringrazio come sempre Grazie a te Alla prossima Samuello lo sai che ti dico? Mi fai top 100 Io sono top 200 Allora È tempo di scloppare Buonasera Bellissimo Come stai Egregio Benissimo Benissimo Quanto hai fatto? Che pedo non te l'ho chiesto È 25 25 Ah ok Finito come a me Mamma mia Vabbè a me non mi è andata male Con Elite 2 Sinceramente secondo me Potrebbe andare bene pure qua Non mi pare male Elite 2 Perfetto L'anno scorso Prima VL abbiamo trovato Mi hai trovato Di Bala Di Bala è stata la prima VL È vero Rashford sarebbe l'equivalente Maggiore quest'anno Per l'overall Andiamo Vai prendiamo 87 Tanto se gli altri non li usi Spizzi in grigia Mi hai rotto i coglioni Eh Ale Ultimo Mamma mia Vabbè facciamoci una No vabbè niente Sì sì dai Due striscioline Dai due striscioline Dai Prendiamo un mega Che cos'è questo? Un mega Au Au Ah vabbè My Champions però Eeeh My Champions così 84 in su So walk out Vai col 100k Manco walk out Vabbè Vabbè Meglio dei walk out Quanto Guarda l'ultima volta che era Stava a 100.000 Mustard a tipo 69 Vabbè no in realtà va bene uguale Meglio della maggior parte dei walk out A 67.000 crediti Ultimo pacchettino Team of the week Almeno Osiman Ah SN Nice 81 Mamma mia Levi e Sergio Herrera M&M era tutto il team of the week garantito Ma ho trovato Sergio Herrera Vabbè Lasci qua questi va Scloppone che non fa Elite One Dai pure troppe coincidenze che non girano bene Ciao Sclopo Ciao Baloneo Grazie Buona ride dopo se stream Dexino Quanto hai fatto in WL Vadato Io ti ho copiato Proprio pari 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 Uguale a me 25 L'ultima me la sono giocata perché non volevo lasciargliela Poi l'ho pure persa a 120 Proprio da stronzo quindi Vediamo se Ponda meglio dei Sclopo è meglio dei me A me in realtà A fine io ti dirò Guarda Perché se io ho beccato i tuoi premi Mi va benissimo Tanto ho tolto Rashford Il resto Ma no ma delusso eh Delusso I premi miei una crema proprio Oh Nice Il pesce rosso Magikarp Secondo pick Ok Se abbiamo E la rabbi Oh Beh Ah c'è il cazzo Che è il top rated D'esta settimana lui no È top rated 89 Guarda Ti dirò Ma intanto i porteri fanno tutti schifo Eh ovviamente Però 89-86 GG I rossi buoni Allora vai con 100k Dexì vediamo se qua un walkoutino ce l'esce No Non credo che lo farà If Base Così Eh Bamba No Amavi Amavi Perma trovato già Sotto un bel Va bene Vabbè Oh guarda In tutti i vacchi che abbiamo aperto Non era walkout Non erano magari walkout Così ma c'era sempre sotto un giocatorino da valore buono Capito Va benissimo Guarda Fare 50k da sto pacco è oro Il 3 if invece Speriamo bene No Non speriamo proprio bene Era difficile Trovare una roba buona Ho trovato un ragazzo Due volte pareco Che dici Pensa che culo E basta Mamma mia Dai non è andata malaccio Dexì come prima botta Ti dirò Sono soddisfatto Daie 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 Dexì Ti ringrazio bello Eccolo guarda Guarda che è già pronto Guarda che è già smutato Danielfino Ciao bello Ha fatto 29 ragazzi Elite one 29 Ha perso la trentesima Il signor Danielf Non so se lo sapevate Ma lo sai con chi l'ho perso Con un youtuber greco Sono tre giorni che vengono in chat a scrivere Ieri uno streamer greco verificato su Twitch Quindi come per esempio Che ne so Io tolgo il 30-0 un youtuber greco Tu vai a scrivere a questo È venuto a scrivere Che avevo perso contro un youtuber greco Mamma mia Lo youtuber greco Come fa di niente Vai che se no Allora vai Primo picchetto Solo Rashford Il resto Eh il resto è bamba Oh spizzi Dai spizzi Se prende Florenzino Se prende Mamma mia Amavi Sì amavi 29 regà 29 win C'è Florenzino Che ce frega Di 100k per 125 Dai Due walkout su tre Brasile Diego Carlos Potrebbe Diego Silva Mamma mia Che schifo Questi ti butta al club Mamma mia Fratelli Mille crediti di tutti Manco walkout Stiamo a iniziare Veramente male Stiamo a iniziare Brutta start Aspetta Rodricone Vabbè Il suo minimo valore Ce l'ha ancora Dai Oh walkout Workout No No Ma no Vabbè Dai Bono Dai vabbè Poteva uscirci Quell'altro Ok Ok Vabbè Questa è un pacchettino Eh però Lucas Vedi Lucas Ah frate Io sono l'unico stronzo Questo per me È un pippone Il re Il re Così non rompi subito tutto Ma così rompi subito tutto Ma che pacco è Che cazzo di pacco è L'antique semeto Bruschetta Lo sloveno Il cileno Come sei chiamato Mi è crashato lo share play Mi è crashato Mi è crashato lo share Aspetta venimi What the fuck Barbone già comincia Questa Mamma mia Che pacco C'era lì Van Dijk Nel chilling Che comunque sta A 450 Questo sta Bello che lì sta Trasferimenti Hai svoltato l'account Subito Vabbè si gode subito Praticamente secco Quel pacco era 750.000 credit Di quel pacco Più o meno No vabbè Fai 600 650 Tipo Questo Un walkout Che faccia sorride Nel finale Ci deve sta Hai visto Hai visto Inghilterra Easy Club Vabbè Va bene Forse Forse Quel 30 Youtuber greco Leccami le palle Si gode infatti Youtuber greco Stiamo godendo Youtuber greco Boh il pesce Stanno l'abbiamo visto prima 120 Quasi un milione Abbiamo fatto Quasi un milione Alla prima UL Grazie a te Grazie mille Ciao bellissimo Un bacione Che pacco Regà Posso dire Che pacco Allora Siamo sull'account Del mio uomo Dani L'abbiamo aperto Molte volte Su FIFA 20 L'abbiamo aperto Molte volte Dovrebbe aver fatto Anche lui Se non sbaglio Elite 1 Però non vuole Aperti Gli if Allora Voglio un Rashford Pick Posso Grazie Vabbè Le dirò Ma contento Depay No but Il pesce Guarda Me lo sta regalando Però in realtà Secondo me Non è manco male Oh Ok Dani E mo cominciamo a ragionare Timo Werner Manfish Come lo chiamiamo qua Depay Marcus Rashford Vabbè Va bene uguale Comunque Comunque sta carta Di Werner È Pog Peccato Per le mosse abilità Peccato Vi ricordo comunque Tutti i ragazzi A cui ho aperto i pacchettini I ragazzi Streamano su Twitch Fanno la VL anche loro E so dei mostri Oh ma che è Tre pacchi da 100k E un pacchetto ultimo E tazzi sto già in game Qua oh Guarda che contenuto Nick grazie dei 100 Let's go Vai col primo 100k Voglio almeno due walk out Su quattro Un fire turkey O videogame Ok vedi vedi Nice Francia Zanongolo 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 Si gode subito Te prego Dimmi che il pacco è scambiabile Perché so che uno È non scambiabile Per forza È non scambiabile Aspetta però ce l'hai Oh anvedi Abbiamo dato pure Viera Mazza che il pacco c'è Ce l'hai scambiabile Sì Wow 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 Wart Dani Una crema Vai col secondo 100k Mamma mia Manco bandiera Tragedia ragazzi Bandiera almeno è bandiera Non è un walk out È un if Meh Ok Abbiamo spremuto con golo Davvero Pacco ultimate Un walk out Qui e fanno due su quattro Come avevamo detto E stiamo d'accordo Niente Se temo fa bastangolo Germania Allora L'ultima volta che l'ho trovato Aveva un gran valore 77 Ma vabbè guarda 70k 80k Più o meno Pura che E son 100k In totale Apro un if Lo senti Uno però Non te fa trasportare Esci rientri E naso Ci abbiamo creduto Fino alla fine Per me Pure questi premi Sono andati Insane Vernet rosso Depay rosso Ungolò Da 125 A Verso E quell'altro Nart 300 L'abbiamo macinati Anzi se non di più Non ho smantellato Regà La prima è andata bene See you going there No ho smantellato 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 No ho smantellato